Ciao a tutti e ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo Episodio di ValiantArts Ma l'avevamo già vista sta roba no? Mi fai ripartire dal punto giusto spero Ma l'avevo già fatta questa parte? Mi viene un dubbio No penso di no Ok allora dodicesimo episodio Siamo qui il gioco si sta facendo davvero avvincente Oddio non vorrei ci fossero mine Si c'era una mine Quindi non capisco cosa devo fare Devo scavare da qualche parte O vado avanti Vediamo se riesco ad andare avanti Non so dove andrebbe Oh ok il cane Mi esce da quello da parte Il cane cosa fa? Ok mi sa che devo scavare da qualche parte Prendiamo qua Ok Aia Aspetto un po' Voglio che riparta il gas Così non mi prendo il danno Che potrei morire Shit Eh nessuno mi aveva avvertito qua però Ecco il problema Ora non so dove è il cane Ed è un problema? Sì è un problema Perché avete visto Che si buga più volte Ok Bene Ho asciutto quello giusto Di qua si scende ancora Ok Merda Ho scavato troppo Devo mi far ripartire Da qua Ok Devo uscire a evitare Merda Sei un ciccione Emil Come fai a passare da quel buco là? Io non lo so No Praticamente dobbiamo mandare Il cane A far qualcosa Dove è il cane? È sotto? Sì Ciao cagnolino Ok Il fuoco si sta spegnendo Ora possiamo scendere Bene Ok Possiamo solo salire Non posso prendere niente Ok Prima di salire Facciamo spostare di là Ok Bene Bene Ok Sta roba Possiamo farci qualcosa Ma non so cosa Di qua c'è una leva Oh What the fuck is this shit? Allora vediamo di qua Se si può fare qualcosa Forse ho capito Forse ho capito Sì forse ho capito Voglio Voglio fare così Voglio prendere della TNT E metterla su quel coso In modo che Quando Usa il lancia Il lanciafiamme Fa un botto della madonna Però per prendere quello Devo mandare il cane Ah cosa fa sta roba Ok Dove porta Magari Con questo Sì con questo Uccido il tizio Che dà fastidio a Freddy Qua ho trovato Un oggetto missione C'è qualcosa Qualc'altro oggetto No Ok Allora diamo Fuoco alle polveri Più o meno Come cazzo faccio Come faccio a prendere La roba Qua si scende No Qua da dove sono salito No 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 Allora vediamo Se si può andare ancora a destra No È chiuso Vediamo se mi sono perso qualcosa No Oh Là mi sa che c'è qualcosa Solo una Sì Solo una roba infinita Di Pupazzetti Ok Allora Vediamo bene come fare Ci dà qualche suggerimento No Vediamo se riusciamo a farlo senza Che è più divertente Allora di qua non c'è niente Come si fa a prendere Della roba qua Forse non dovevo uccidere Sto tizio Forse non dovevo uccidere il tizio Fai vedere Ah no Potevo ucciderlo Il problema è come faccio Non mi fa a prendere qua la roba O c'è qualcosa per attivarlo E mi sono perso qualcosa Vediamo Magari sotto c'è qualcosa per attivarlo Qualche leva Non mi pare Dobbiamo scavare tutto Oh Oggetto No Non vedo nessuna leva Dovrei poter accenderlo Teoricamente Magari prendendo una di queste Oh Ho visto qualcosa qua No Dovrei prendere la TNT Secondo me Però Come faccio Allora Bersiamo sta roba Devo andare il cane a prendere qualcosa Tu vai la intanto Non vorrei che mi ha ammassa il cane però Quindi Cioè queste cose qua Me le hanno messo per un motivo Quindi Lo metto qua No No Ah ok Se c'è questo non posso mettere il cane Capito Vai là Vai là ti ho detto Vai Vai Si bugga ogni tanto Ok Problema Non può battere sta roba Si bugga Perché si bugga Ok Prendiamo sta roba Mettiamola da sopra Non so perché Non chiedete Ma no Ma ora il cane Si è deciso Si spara vero Oh guarda come l'inghia Vacci sopra E' stravagata sta roba Vai Guarda come l'inghia Nessun indizio è disponibile Addirittura Se vado di qua Mi dà indizi Nessun indizio Sei serio Perché prima c'erano Cioè è vero che non ho manco niente da mangiare Da lanciare addosso al tizio No Ho pensato di poter prendere gli stivali Scemo io Allora scendi Ok Ah sono scemo Prendiamo questo E lo mettiamo là sopra Posso trasportarlo per un motivo No Vediamo Ah forse piano ci devo mettere dentro un manichino però Che lui si fila solo i manichini Manicofilo Più o meno Vieni qua Vediamo No non se lo caga di striscio E invece si Quindi ora possiamo usare questo Per accendere il fuoco Immagino Perché spostarlo sopra non posso Perché pesa di più se brucia Non ho capito sta roba Magari perché è caldo Ecco qua Ok è morto Ora Vieni Freddi Ha bisogno di TNT Ho capito però Dovresti prima spaccarmi là Ok magari devo Tenergli occupato Il lanciafiamme Mentre lui Fa tutta la roba E cerca di prendere la TNT Però devi andare anche con lui Vabbè ti ci mando dopo Prima vediamo se riesce a Scusa come cazzo faccio io Scusa come cazzo faccio io Darti la TNT eh Scusa Freddy Mettiamo il cane di là Intanto perché So che il cane Tipo è il modo in cui Cambiamo PG Cosa è sta zoomata Ok però posso usare questo Bravo Ma sei scemo Ma se mi buceva il cane Ok Bisogna andare avanti Possiamo andare avanti Bene Dove va non lo so Però Ah ok è qua Possiamo andare Con i mille No Questo è un muro di mattoni Giustamente Ok Si sale un bordello Si sale Bene C'è un po' di gente Allora vediamo di esplorare Prima tutto Niente Niente Di qua dove si va Woot Merda Mi sa che sono rimasto Incastrato Allora vai là No no torna di qua Perché ora lancio la granata Granata Dinamite Ok ora Vai di là Mi sa che mi sono perso qualcosa Eh però Anzi A proposito Beh là Devo cercare di prendere anche l'altra Quella che ho appena chiuso Vieni qua A vedere se sono riuscito a prendere la porta Magari l'aperta No Speriamo di riuscire ad aprirla Perché se no boia Io ci devo anche tornare indietro Ok Allora vediamo cosa c'è di bello A me è so che ci sia qualcosa di bello Un'altra porta è chiusa Ah pensavo fosse il barone Vondorf Che mi ha visto Ah no ma ha visto sul serio Holy shit Eh no eh TNT Motherfucking TNT No Esplosa Aspetta la Spettro Che meno spettro Anche se non è bianco Ok Veloce 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 LoL Riattiva Quelcoso Vai No Riattivalo Bene Nice Noi ci vediamo nel prossimo episodio Comunque Io Io vi saluto Ciao 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 Ciao